ricordati di vivere oggi voglio partire da un libro sempre di romano madera il metodo biografico come formazione cura e filosofia e parto dalle pagine introduttive in qualche modo comunque dove un po ci presenta anche l'obiettivo di un testo come questo che è l'obiettivo anche di questi miei video dei laboratori che faccio un po del modo in cui ho preso confidenza in qualche modo nel muovermi e lui a un certo punto a pagina 21 scrive disorientati senza senso questa è la diagnosi ma bisogna ascoltare davvero la diagnosi mi ha molto colpito queste due righe anzi una riga e mezza disorientati e senza senso spesso ci sentiamo così in un mondo che apparentemente crolla cambia velocemente ci mette nelle condizioni di un'inquietudine a volte difficile da contenere da reggere da leggere o all'interno della quale riuscire a mantenere o ritrovare una bellezza dell'esistenza la possibilità e la capacità di meraviglia di contemplazione di rinascita e allora prima di tutto lui ci dice se disorientati e senza senso è la diagnosi ascoltiamola questa diagnosi noi per lo più siamo portati un po a fuggire da quello che sentiamo come disagevole nello starci sentiamo come sgradevole qualcosa da cui spontaneamente ci viene voglia di fuggire in realtà credo che la filosofia come stile di vita o qualsiasi via verso la consapevolezza e sicuramente questa filosofia è una via verso la consapevolezza ci chiede di stare in ciò che ci sentiamo perché è proprio là dove sentiamo quella quella fatica quelle emozioni quel disorientamento là dove riusciamo a reggere mi piace dire con uno sguardo lucido e anche un po disincantato la vita per quella che è e noi per quello che siamo in quel momento di vita allora lì si rivelano e si svelano anche le risorse per trasformare ciò che stiamo vivendo che non vuol dire ahimè a volte tante volte uscirne ma vuol dire riuscire ad ampliare lo sguardo non essere definiti da quella sofferenza da quella disorientamento ma questo lo possiamo fare se accettiamo questo passaggio che dura nel tempo e forse mi vien da dire dura in realtà un po tutta la vita per quanto ovviamente si trasformi nel corso degli anni ma soprattutto è qualche cosa che ci mette a contatto col nostro bisogno di senso con la nostra ricerca di senso costante necessaria per vivere e anche qui il senso non è mai dato né per scontato né dato una volta per tutte allora accettiamo di metterci in viaggio accettiamoci di stare accettiamo di stare in un processo che dura nel tempo e che nel tempo si dipana si trasforma e trasforma noi stessi perché non è solo il processo che cambia ma siamo noi che cambiamo in questo processo e di nuovo romano pagina 23 scrive il caos stesso è una fase di orientamento un punto di collasso o di nascita o di sviluppo in ogni caso presenta e crea forme ed è questo diveniente formare e distruggere che che chiamiamo caos questa trasformazione questa mancanza di punti di riferimento apparente questo disorientamento appunto che genera ansia inquietudine e spontaneamente ci metterebbe nel desiderio forte di trovare immediatamente di nuovo qualcosa che ci tolga dal caos e che ci ridia qualunque esse siano punti di riferimento qualunque esse siano pericoloso rischioso perché poi ai punti di riferimento rischiamo di affezionarci velocemente ma poi è quello il parto che volevamo in questa rigenerazione che il caos voluto cercato o subito ha messo in gioco ecco allora è importante interrogarsi come stiamo nel disorientamento nel caos quanto attendiamo l'emergere del senso quanto e come ci mettiamo in gioco nella ricerca di un nuovo senso possibile con la fiducia con la speranza col desiderio ma anche con l'apertura di ascoltarci e trovare la risposta più autentica che ci può appartenere davvero e che ci mantiene poi in quella mobilità in quell'equilibrio dinamico che è la vita non è solo il caos è la vita la vita è trasformazione movimento è ricominciare più e più volte di questo ho parlato nel mio libro ricominciare nei laboratori ci tornerò sicuramente a breve proporrò nuovi laboratori anzi lo dirò qui lo dirò su instagram facebook e magari vi chiederò anche se ci sono temi in particolare che vi interessano ma detto questo tutti scrive di nuovo madera sappiamo e cerchiamo di dimenticare di nascondere di rimandare di fingere sicurezza e coraggio di accettare serenamente di essere adulti consapevoli e controllati ma sbirciamo con preoccupante ansia i segni della malattia che può torturare la vita della morte che a caso la distrugge a volte prima che sia matura la difesa è al suo fondo rozza speriamo che adesso oggi ancora un giorno non tocchi a noi e alle estensioni dei nostri affetti e dei nostri interessi ma ciascuno di noi sa benissimo tutto questo ammetterlo è un po più complicato non facciamo una bella figura con gli altri saremmo troppo importuni e anche con noi stessi è perturbante il risponso dello specchio anch'io lo so che sto diventando sgradevole nel leggere queste cose ma sono così vere così vere da commuovere perché è vero siamo esposti ma non per questo siamo esposti solo al dolore non siamo esposti solo alla sofferenza e ce ne dimentichiamo troppo spesso davvero troppo spesso e allora ricordati di vivere proprio questo non lasciare che quella metà del cielo quella la metà della luna venga offuscata dalla paura dal dolore dalla ricerca di una stabilità impossibile per certi versi impariamo a stare nel cambiamento nella trasformazione a come nel cammino a sollevare un piede prima che si appoggi di nuovo e a sentire quell'incertezza ma anche quella fiducia nel terreno che accoglie un terreno sempre diverso sempre nuovo magari a volte sconnesso a volte bisogna guardare dove mettere i piedi ma non per questo è impossibile incedere e allora su questo è importante come sempre scrive romano che soltanto ciò che ha significato redime e sono parole di jung che lui riporta abbiamo bisogno di un significato un significato spirituale perché questo di cui abbiamo bisogno una tensione una direzione una trascendenza un'apertura che ci permettano di stare nella vita per quella che è e di non smettere di desiderarla di curarla di averne cura per noi e per gli altri che vuol dire continuare a cercare di darle forma e allora e mi fermo dopo queste parole chiudo sempre con madera che scrive il nesso fondativo della filosofia come modo di vivere è quello tra pratica ed esercizio per costruirla e discorso che può criticare consolidare e migliorare la scelta di vita questa caratteristica la rende adatta al tempo delle domande senza risposte anzi al tempo che dispera delle risposte perché rimasti senza riparo senza orientamento senza senso possiamo e dobbiamo ricominciare solo dalla nostra esperienza dall'esperienza che porta un nome proprio che è personale quali che siamo e allora ripartiamo da noi dalla nostra storia dalle nostre cadute dalle nostre rinascite dai nostri caos e dalle nostre possibilità di ancoraggio da tutti quei movimenti che la vita ci ha proposto che noi a volte siamo andati a cercare e rimaniamo vive in questo movimento rimaniamo creativi rimaniamo aperti tenaci disposti al rischio alla speranza al desiderio e se può aiutare nella ritestitura usiamo per esempio non solo il racconto che possiamo fare a persone capaci di ascoltare amici conoscenti se serve perché no professionisti ma scriviamo ridiamo anche una forma sul foglio o sul computer io come avrete capito amo molto la matita e i quaderni ma ridiamo forma parola scegliamo le parole con cui dire la nostra vita il nostro passato ma soprattutto il nostro presente con un'apertura al futuro perché solo questo ci salva dal caos e ci mantiene capaci di ricordarci di vivere a giovedì prossimo